Nascerà a Villanova il nuovo centro nazionale paralimpico del Nord Italia. È stata pubblicata in gazzetta ufficiale la delibera Cipe sulle risorse, 10 milioni di euro destinati all'azienda Asla di Piacenza per trasformare l'ospedale intitolato a Giuseppe Verdi. Verrà realizzata un'area residenziale con circa 50 posti letto, mantenuto lo spazio per le attività riabilitative e sanitarie e saranno potenziati gli impianti sportivi. Il centro diventerà riferimento nazionale per i paratleti e le persone con disabilità fisica che vogliono fare sport. L'intervento prevede la ristrutturazione dell'edificio di Villanova, attualmente sede dell'unità spinale, in modo da creare un'area residenziale con circa 50 posti letto, mantenere uno spazio per le attività riabilitative e sanitarie e rafforzare la parte degli impianti sportive. Oltre agli elementi già esistenti, palestre, palazzetto, piscine riabilitative, verranno costruite una piscina, una pista di atletica e altri spazi pensati per i paratleti. Il centro sarà in grado di attrarre paratleti e atleti paralimpici e dunque persone con disabilità fisica già avviate allo sport, ma anche le persone con disabilità fisica che hanno terminato le fasi di cura e riabilitazione e vogliono iniziare un'attività sportiva. La struttura è pensata anche per tutti i pazienti delle unità spinali in fase di predimissione. L'idea di fondo del centro, dunque, è che la presenza di atleti possa motivare anche persone con disabilità fisica a iniziare un'attività sportiva in un circolo virtuoso in cui tutti i soggetti riescono a trarre beneficio psicofisico. Siamo fieri di questo risultato per il quale come regione ci siamo battuti a fondo e che è frutto di un importante lavoro di squadra insieme al territorio e agli amministratori locali, ha dichiarato il presidente della regione Stefano Bonaccini con l'assessore alle politiche per la salute Sergio Venturi. Il centro, aggiungono, una volta realizzato, rappresenterà qualcosa di unico nel panorama riabilitativo del centro-nord e arricchirà il nuovo quadro della sanità piacentina e regionale. Il direttore generale dell'azienda sanitaria di Piacenza, Luca Baldino, estende il ringraziamento alle istituzioni, ai tecnici dell'azienda e ai funzionari della provincia. Tanto è il lavoro già fatto, dice, e massimo sarà l'impegno della direzione per la realizzazione di questo progetto, così altamente qualificante per il nostro territorio e per l'intera area del nord Italia. Porteremo a nuova vita, aggiunge Baldino, lo storico ospedale voluto da Giuseppe Verdi. L'unità spinale, posta nel nuovo ospedale di Fiorenzuola, continuerà ad essere struttura di riferimento per le province vicine e potrà contare su un centro di elevatissimo livello per completare la riabilitazione dei pazienti e attraverso lo sport far ritrovare loro motivazione e speranza.